Inizio settimana difficile per i paternesi, ancora problemi idrici in città per un mese di giugno sul fronte del servizio idrico da dimenticare. Tanti i problemi nelle diverse zone della città con una distribuzione a singhiozzo totalmente assente. Le zone dove si patiscono in maniera più concreta e disagi sono i quartieri Sardegna e Scalavecchia, dove nonostante gli interventi per la sostituzione della rete idrica, realizzati grazie ad un progetto ottenuto dall'ex Giunta Mangano per un importo di circa 4 milioni e mezzo di euro, i problemi per l'assenza di acqua restano. Una problematica vecchia di decenni, questa per le due zone della città, aggravatasi sempre di più nel corso degli anni a causa di una rete fatiscente caratterizzata da continue perdite. Per ovviare al problema nel tempo, l'AMA ha adottato la tecnica di fermare la fornitura a metà giornata, con i cittadini che per far fronte alle esigenze familiari hanno adottato la tecnica di dotarsi di vasche di raccolta dell'acqua. Negli anni però la situazione è andata via via peggiorando. Infuriati, i cittadini alla richiesta di capire cosa è successo trovano solo silenzi da parte del centralino dell'azienda idrica cittadina, al cui numero non risponde nessuno. Tra l'altro ci si domanda quali sono i benefici ottenuti dalla sostituzione della condotta idrica in zona Sardegna. A rispondere è il presidente dell'AMA Andrea Lofaro. Per la nuova rete stiamo provvedendo a finire gli allacci finali, dice Lofaro. Una parte è stata completata, l'altra la stiamo completando in queste settimane con gli allacci per metterla in funzione entro l'estate. Solo dopo riusciremo a valutare la portata del miglioramento complessivo e capire come poter agire per il futuro. Va evidenziato che in questi giorni ci sono stati molteplici problemi, continua Lofaro, determinati da diversi fattori. La scorsa settimana, ad esempio, abbiamo subito dei blocchi a causa di guasti alla rete elettrica. Per molti utenti poi le problematiche non sono legate al nostro servizio ma ad altri fattori, tra questi l'amorosità. Aggiungo che in estate bisogna tenere in considerazione, conclude Lofaro, la diminuzione della portata dell'acqua. Per far fronte ai problemi stiamo lavorando, stiamo facendo il massimo per dare un servizio il più efficiente possibile.